È stata trovata così, mimetizzata insieme a della polvere per l'edilizia. È il 17 ottobre, al porto di Genova si sta realizzando il più grande sequestro di eroina degli ultimi 30 anni. Dei 270 chili ritrovati nei container, una parte è requisita, mentre l'altra viene caricata su un tir. Gli agenti della polizia la seguono attraverso le frontiere di Svizzera, Francia, Belgio e Olanda. Qui, dopo un viaggio di tre giorni, il camion entra in un magazzino e consegna alle forze dell'ordine due trafficanti turchi. L'eroina sequestrata a Genova arriva dall'Iran, sarebbe stata venduta nelle piazze di tutta Europa e avrebbe fruttato più di 10 milioni di euro. I numeri di questa operazione riaccendono i riflettori sulle droghe pesanti. Noi da tanti anni diciamo che il funerale dell'eroina è stato celebrato troppo presto, perché l'eroina c'è sempre stata. La cosa nuova di quest'anno è che sta nascendo una nuova generazione di giovani e giovanissimi che sono arrivati all'eroina. Quando c'è un eccesso di consumo, di stimolanti e di eccitanti, poi la società e il singolo ha bisogno di un buon sedativo e l'eroina è la migliore soluzione apparente, anche se poi è l'inizio di una peggiore dipendenza e di una peggiore schiavitù. L'ultima vittima dell'eroina arrivata sulle cronache nazionali è Desiree Mariottini, sedicenne, morta a Roma dopo una overdose e abusata mentre era incosciente. Alice Bross aveva la sua stessa età ed è stata trovata morta nei bagni della stazione di Udine appena un mese fa. Ad ucciderla è stata sempre l'eroina. A Milano è stato alzato un muro vicino alla stazione di Rogoredo per scoraggiare gli spacciatori, ma il parco antistante è diventato un campo di siringhe. La gente sappia che anche a casa è un peccato morire di eroina perché c'è l'antidoto e l'antidoto lo possono somministrare anche i genitori, i parenti, gli amici e tutti quanti quelli che stanno vicino al paziente.